Toyota Proace 1.6 diesel, 115 cavalli, 10 quintali di portata, ha percorso 147.000 km, è stato immatricolato a novembre 2018, è in ottime condizioni. Unico proprietario, lo vendiamo tagliandato, preparato, con certificazione del chilometraggio e garantito. Venite a visionarlo alla Lenticar, a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Vi aspettiamo numerosi, grazie per l'attenzione.